Il metodo mi sembra giusto, cioè insulti e spintoni. Loro cosa fanno nei laboratori? Firmate. Ho smesso di mangiare carne e i suoi derivati e da allora ho smesso di ammalarmi in pratica. Per un raffreddore ogni due anni non c'è bisogno di andare dal medico. Lo curo con limone e peperoncino. Firmate. Gli animali hanno bisogno di voi, voi siete il futuro di questo paese. Allora, non l'avete ancora firmato? Firmate su www.salvalasperimentazionanimale.it Non esistono metodi alternativi.